Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio, rocaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando le guglie nobiliari, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che susciterà l'interesse di molti duellanti. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia lo Structure Deck Eroi delle Tenebre realizzato da Mirko Milone in arte Mirko Ho. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia le prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Il prodotto presenterà Hellboy in tutta la sua demoniaca maestosità che dominerà solitario l'immagine principale dell'articolo, il logo rivisitato dell'autore con il titolo dello structure in basso, assieme al nome dell'artista e all'edizione sulla parte frontale, solamente questi ultimi tre riportati sia sul lato destro che sinistro, il solo logo sulla parte superiore, tutte le informazioni legali del caso descritte sul fondo ed il contenuto con una prima descrizione del deck in questione riportate sul dorso della scatola. Una volta aperto l'articolo, al suo interno troverete un mazzo composto da 57 carte suddivise in, una foil raffigurante l'eroe oscuro Hellboy e le restanti 56 comuni che vi riporteranno alla mente i vecchi e celebri tempi passati a giocare nel formato GOAT, essendo presenti degli elementi che riporteranno alla memoria carte iconiche dei primi anni 2000 come la carita graziosa, lo spadaccino mistico livello 2, i rinforzi dell'esercito e lo stesso Black Luster Soldier che presterà la propria abilità al demone rosso capitano di questo structure. Ovviamente non dovrete impiegare tutte e 56 le carte presenti ma potrete selezionare le 40, 41 o 42 all'occorrenza che più si adatteranno alle vostre esigenze, disponendo addirittura di una side pronta all'uso tra un match e l'altro per aggiudicarvi il duello all'insegna dell'anti-eroicismo. In più troverete un Poster Playmat Deluxe che fornirà una prima barriera difensiva per proteggere al meglio le carte incluse nel mazzo e una guida rapida all'utilizzo dello stesso dove verrete a conoscenza delle prime sinergie tra carte che vi torneranno utili per oliare nel migliore dei modi le meccaniche del deck. Unendovi quindi agli anti-eroi anche voi potrete vigilare attentamente sulla città in attesa che qualche malfattore faccia la propria mossa. Se poi sarete degli appassionati di GOAT proprio come me questo sarà il deck che farà al caso vostro non distaccandosi poi troppo dal caos turbo tradizionale che rappresenta uno dei deck top tier in circolazione. Sarebbe bello giocarlo proprio contro un deck legale appartenente al formato che va dagli albori del TCG del maestro Takashi fino al 2005 per vedere come si comporta. Se avrete poi la possibilità di farlo scontrare proprio contro un turbo per l'appunto credo che se ne vedranno delle belle. Proverò. E a proposito, volete vedere una sfida dedicata magari in live tra questi due mazzi? Fatemelo sapere nei commenti. Ok Arconte, hai detto che contro un mazzo legale nel formato GOAT potrebbe dire la sua. Perché questo non lo è? Ovviamente no. Infatti oltre ad essere carte totalmente create da zero da Mirko che ha scelto anche la tematica del deck ci saranno delle differenze sul dorso sostanziali che indicheranno la loro autenticazione frutto della mente dell'autore. Proprio come il mazzo Folliatun che abbiamo trattato in un contenuto dedicato che potrete trovare qui. Si potrebbe magari organizzare un duello Eroi delle Tenebre contro Folliatun due structure nati dalla stessa matita che sono certo divertiranno se visti in azione. Probabilmente farò una storia su Instagram troverete il profilo del canale in descrizione dove creerò un sondaggio che vi chiederà di votare le due soluzioni appena proposte. Come al solito, la scelta spetterà a voi. Insomma, come sempre, Mirko Ho ci ha regalato una perla fanmade eccellente realizzata in modo impeccabile e che sono certo appassionerà molti aspiranti re dei giochi a provarne le dinamiche. Coraggio allora! Indossate la maschera ed il mantello e nascondetevi nelle tenebre più oscure in attesa di sorprendere il malfattore di turno assicurandolo a vostro modo alla giustizia. O anche no. Prima di concludere, volevo ringraziare Mirko Milone per avermi dato la possibilità di parlare del prodotto mostrato in questo contenuto. Vi lascerò ogni riferimento al suo negozio e dove potrete acquistare lo structure degli eroi delle tenebre come sempre in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!